Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi affronteremo un argomento che secondo me è caro e caldo a tutti. Andiamo a vedere come funzionano le transizioni che troviamo online quando troviamo i pack di transizioni, o meglio detto in inglese transition pack. Qui ne ho un esempio, questa è una transizione che potrete tranquillamente trovare in un transition pack qualsiasi e la domanda che tantissimi di sicuro si saranno posti, in special modo chi ha le prime armi, è come si utilizzano queste transizioni bianco e nero all'interno di Premiere Pro. Beh, c'è un effetto che ci permette di utilizzarle e in questo tutorial vi spiego come si utilizza. In primis vi mostro che in timeline ho due clip completamente diverse, separate, al quale voglio aggiungere una transizione. Beh, forse sono un pochino lunghette perché le ho semplicemente appoggiate. Diciamo che tra questa e questa io voglio applicare una dissolvenza e voglio applicare questa dissolvenza che ho trovato in un transition pack. Questo transition pack che è di Luca Uletta, che presto sarà disponibile, mi dà questo file che è sostanzialmente un file video in 4K a 60 fotogrammi al secondo che ha questa animazione. Ma come la utilizzo? Beh, in primis la si porta sopra la timeline e la portiamo sull'elemento a cui vogliamo applicare la transizione. Poi, essendo un file 4K, il fatto che io abbia una timeline in Full HD, naturalmente la vedrò molto zoomata. Quindi faccio tasso destro, ridimensiona a dimensione fotogramma. Così facendo il file verrà ridimensionato. Ma a tutti gli effetti in questo momento abbiamo quella che è una clip video sulla timeline che all'inizio è nera, poi diventa bianca. Ebbene, questa è esattamente una clip video, quindi non vi state sbagliando, è esattamente una clip video. Ma come rendere la transizione? Beh, dobbiamo applicare un effetto che troviamo all'interno di Premer nella clip che troviamo subito sotto la nostra transizione. Ora andiamo nel pannello effetti e cerchiamo, tranquillamente, io già l'avevo cercato per comodità, andremo negli effetti video, nei tipi di trasparenza, in italiano troviamo l'effetto mascherino traccia. Ci basterà trascinarlo sulla clip a cui vogliamo applicare la transizione e che vi ricordo dove stare esattamente sotto la transizione. Andiamo nel pannello del controllo effetti e ci comparirà questi tre parametri, in pratica. Possiamo decidere qual è il mascherino. Sì, perché in pratica questo effetto ci permette di far decidere a noi quale mascherino applicare all'immagine e su quale livello si trova. In questo caso io l'ho applicato, quindi l'ho appoggiato, sul livello numero 2, quindi mi basterà andare dove si è scritto nessuno e scegliere il video numero 2. Qui mi compare video 2 e video 3 semplicemente perché abbiamo semplicemente tre livelli video, il livello 1, 2 e 3. Se sul primo livello abbiamo il nostro file, insomma, quindi abbiamo la nostra immagine, la nostra clip con l'effetto applicato, naturalmente lui ci mostrerà video 2 e video 3 perché sono gli unici due disponibili. Quindi noi l'abbiamo applicato, abbiamo messo la transizione su video 2, quindi andiamo a selezionare video 2. Cosa è cambiato? Mmm, è scomparso il nostro livello che abbiamo sopra, quindi quello bianco e nero, ma se andiamo a vedere non è successo assolutamente nulla. Perché? Perché abbiamo ancora un'altra opzione, ossia alfa mascherino, troviamo scritto qui, il tipo di composizione. In questo caso il Premiere ci chiede come vogliamo andare a leggere questo mascherino. Dobbiamo leggere il canale alfa oppure dobbiamo leggere la luminanza? In questo caso dovremo leggere la luminanza. E infatti, appena clicco luminanza, tutto diventa nero, tranne questa parte. Questa parte diventa nera perché nella clip originale questa parte è grigia, quindi vuol dire che si sta cominciando a comporre l'immagine. Infatti, se vado avanti, fotogramma per fotogramma, vediamo che la transizione è stata applicata. Ma, cosa ancora più bella, è il fatto che questo effetto ci permette che tutto il nero che stiamo vedendo sia trasparente. Quindi, prendiamo le nostre clip, le spostiamo sopra. Ah, c'è un problema. Il problema che nasce è il fatto che noi all'effetto abbiamo detto che il mascherino si trovava sul livello numero 2. Adesso non lo trova più. Infatti, dobbiamo andare a dire che si trova sul livello numero 3. E così facendo, ritorna tutto come prima. Andiamo a prendere la clip precedente alla nostra a cui abbiamo applicato la transizione e andiamo ad allungarla sotto. E come vedete, in pratica, si è creata la nostra transizione. Insomma, con questo breve tutorial abbiamo terminato. Spero che vi abbia aiutato a risolvere il problema legato all'utilizzo di questi effetti che si trovano tantissimo online, ce ne sono tantissime librerie e che possono sembrare subito fastidiosi da utilizzare perché non abbiamo una vera e propria transizione all'interno di Premiere ma abbiamo una clip video da dover utilizzare. E così vi ho mostrato come è possibile utilizzarla. Cos'altro a dirvi? Se avete delle domande dovete scrivermi qui sotto nei commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Grazie.